Il prossimo 23 febbraio è un giorno molto importante per la Campania, per Napoli e per un quartiere in particolare, quello relativo al collegio uninominale Campania 7, Napoli-San Carlo all'Arena. A causa della morte del senatore Franco Ortolani, avvenuta pochi mesi fa, si è aperta una nuova tornata elettorale per quel territorio. Il Movimento 5 Stelle ha candidato Luigi Napolitano, un attivista storico, una persona di alto profilo, che in questi anni ha sempre lottato per il suo territorio, per le famiglie del territorio di Napoli, per i lavoratori, contro la corruzione e contro l'illegalità. Il 23 febbraio dia a tutti di andare a votare nel tuo quartiere, vota il Movimento 5 Stelle e vota Luigi Napolitano.